amici carissimi di auto occasioni oggi sono venuta per voi in una concessionaria che sapete io amo moltissimo sono nella concessionaria teorema opel a torino in corso rosselli 181 e qui si apre davvero l'universo opel un brand conosciuto nel mondo perché ha delle vetture davvero sicure performanti e anche molto belle ma soprattutto una gamma così ampia ad andare incontro davvero le esigenze di tutti quanti e per di più pensate in pronta consegna quindi non avrete lunghi tempi di attesa ma ancora una buona notizia con opel non è mai stato così facile realizzare i propri sogni vi faccio qualche esempio seguitemi e vi faccio un esempio che vi alletterà moltissimo perché io so che siete in tanti ad amare l'opel corsa come l'amo io una vettura compatta ma dal cuore sportivo sempre più bella ma anche sempre più facile da portarsi a casa perché pensate che grazie agli incentivi di rottamazione la meravigliosa opel corsa oggi qui da teorema opel può essere vostra con una rata piccolissima di 119 euro al mese quando vi dico che qui da teorema opel troviamo davvero il mondo dei balocchi per tutti intendo dire che troviamo tutta la gamma opel in pronta consegna e abbiamo visto come esserci davvero un modello per tutti i gusti ma anche molto di più perché troviamo un mondo di occasioni per tutti coloro che come te magari non vogliono un'auto nuova ma vogliono una vettura usata una vettura aziendale o a chilometri zero quindi a questo punto per dimostrarvi che tutte queste cose sono verità seguiamo pino e andiamo a scoprire le occasioni di questo mese grazie federica bene arrivati nel centro opel usato perciò vi presento questa splendida crossland 1200 benzina 110 cavalli una vettura aziendale ha percorso pochissimi chilometri la nostra richiesta 19.900 euro e passiamo in casa citroen con questa bellissima c4 1200 fil pack 130 cavalli top di gamma una vettura che in questa brutta stagione ci dà sicurezza sulle strade mentre quando arriverà la bella stagione sarà meraviglioso per spostarci per le nostre vacanze pensate che è stata immatricolata nel 2021 ha percorso pochissimi chilometri e può essere vostra con la citra interessantissima di 21.900 euro signori continuiamo con questa splendida dacia duster 1000 a benzina e un 90 cavalli perciò la possibilità di poter mettere anche l'impianto a gas pensate a nostre richieste di 15.900 euro con la formula free 96 e per gli amanti di casa volkswagen vi presento questa volkswagen taigo una versione 1550 cavalli immatricolata nel 2022 ha percorso pochissimi chilometri avrebbe un prezzo di partenza di 27.900 euro ma con la formula free 96 potrà essere vostra ad una cifra ancora più piccola ovvero 25.900 euro signori ritorniamo in casa citron per questa splendida c5 aircross 1500 turbodiesel 130 cavalli è stata immatricolata nel fine 2021 ha percorso veramente pochissimi chilometri la nostra richiesta con la formula free 96 è di 23.900 euro la suzuki vitara è senz'altro uno dei suv più amati dagli italiani e qui trovate questa versione bellissima in versione benzina 1.400 pensate che è un chilometri zero e ha un prezzo veramente interessante perché potrà essere vostra con la formula free 96 a 21.500 euro signori una splendida vettura per neopatentati dove è un 1.200 una lancia y 69 cavalli è stata immatricolata nel 2020 ha percorso pochissimi chilometri un unico proprietario solo per voi a 11.900 euro con la voltura compresa nel prezzo entriamo in casa renault e non poteva mancare naturalmente la tanto amata renault clio in questo caso vi descrivo una versione molto interessante un 1.500 turbodiesel che ha percorso pochissimi chilometri appena 30.000 e ha un prezzo accattivante perché pensate che potrà essere vostra a 14.900 euro signori vediamo la possibilità di avere un contributo all'attamazione anche sull'usato pensate da 15.900 euro il prezzo di questa vettura chilometri zero solo per voi a 12.500 euro vi diciamo sempre che qui da teorema citoren c'è la vettura per tutte le esigenze e quindi adesso vi faccio una bella carrellata di quelle vetture per tutti voi che state cercando una city car una vettura piccola comoda e compatta per muoversi in città iniziamo con questa smart for for 1071 cavalli immatricolata nel 2019 ha percorso pochi chilometri è un prezzo piccolo come lei 12.500 euro e proseguiamo con questa bellissima toyota aigo 5 porte versione 1000 72 cavalli immatricolata nel 2020 un usato altamente certificato è un prezzo piccolino piccolino come lei pensate 9.900 euro per il massimo del comfort e concludiamo con questa meravigliosa citoren c1 5 porte 1000 di cilindrata 72 cavalli immatricolata nel 2020 pochi chilometri anche lei è un prezzo davvero accattivante 11.900 euro pino federica adesso ti interrogo dimmi ma qui da teorema opel troviamo tutta la gamma nuova in pronta consegna o per qualche modello bisogna aspettare assolutamente noi abbiamo diverse vetture in pronta consegna su tutta la nostra gamma opel e oltre a questo troverate tutto l'usato che abbiamo visto e non solo perché questa è una piccolissima parte e infatti la mia seconda domanda è questa ma quante vetture d'occasione ci sono qui da teorema opel? abbiamo circa 700 vetture perciò la possibilità di potervi accontentare su ogni prodotto ultima domanda come possiamo aiutare i nostri amici per avere un acquisto più facile? ma semplicemente chiedendo vi diamo la possibilità di poter selezionare una vettura per voi la possibilità di poter fare dei test drive e la possibilità a livello finanziario di potervi accontentare e dici poco pino quindi venite a trovarci qui da teorema opel sarete accolti da pino e da uno staff altamente qualificato e noi vi mandiamo un saluto carissimo non è vero? va bene federica un saluto a tutti